Con il problema dei casi di Covid-19, sempre più in aumento anche in Italia, viene a galla anche un altro grande punto interrogativo. La situazione negli ospedali, che ad oggi si ritrovano orfani di medici e personale infermieristico, stanchi di salari troppo bassi e che quindi fuggono in Medio Oriente dove il lavoro viene ripagato meglio. Secondo i dati, infatti, tra il 2021 e il 2022, di mettersi in anticipo sarebbe stato il 120% in più. Quasi 5.000 figure sanitarie, che sommate ai circa 18.000 infermieri spatriati tra il 2019 e il 2021, fanno salire il conto a 23.000 operatori, numeri del poco preoccupanti. D'altro canto, da parte del Governo, una possibile soluzione risiderebbe nella decontribuzione di una quota del salario dei professionisti, tentando così di fermare, per quanto possibile, la fuga all'estero nelle strutture private. Per poter procedere con la decontribuzione, però, la spesa da sostenere sarebbe di 2,7 miliardi e questo solo per recuperare almeno l'8% di salario eroso dall'inflazione con il contratto 2022-2024, somma che si aggiungerebbe ai 2,3 miliardi in più programmatici da tempo per lo stesso problema. Ma i buchi da tappare in realtà sono molti di più, perché con l'assenza del personale sanitario, sia nel pubblico che nel privato, si aggiungono anche le lunghe liste d'attesa per esami e visite, i tagli dei finanziamenti delle regioni che consentono di far funzionare le parti dove il tasso di utilizzo è pari al 30%, quando in alcune strutture si sfiora anche il 100%. E poi quello legato ai macchinari medici, che nell'89% dei casi sono ancora troppo obsoleti. Per questo step il PNRR finanzierebbe con 1,2 miliardi il rinnovo dei parchi macchinari ospedalieri, ma il rischio è che non ci siano industrie disposte a consegnare le apparecchiature diagnostiche, quindi anche qui di garanzie non ce ne sono. Oggi intanto in programma una riunione tecnica tra esponenti del PD e di azione, dove Carlo Calenda ha già messo sul tavolo una proposta per la Premier Giorgia Meloni utilizzare 10 miliardi delle risorse destinate al taglio del cuneo fiscale e destinarle alla sanità, 2 miliardi per rimborsare gli interventi del servizio sanitario e i restanti 8 per rinforzare il personale. Grazie a tutti.